Pasqua e Pasquetta blindate in Toscana. La regione ha infatti disposto la chiusura di tutte le attività commerciali, quindi oltre a bar e ristoranti, domeniche lunedì saracinesca abbassate anche per supermercati, gastronomie, rosticcerie, tabaccai e fioristi. Questo quanto stabilito nell'ordinanza numero 42 del 2 aprile, che però concede la possibilità della consegna a domicilio preceduta esclusivamente da prenotazioni online o telefoniche ed escludendo quindi la possibilità dell'asporto. Potranno invece restare aperte farmacie, parafarmacie ed edicole. Anche bar e ristoranti potranno restare aperti, ma solo per assicurare l'asporto e il domicilio, come previsto dalle disposizioni nazionali per le zone rosse. Durissima la reazione della Confcommercio Toscana. Non discutiamo l'opportunità o meno del provvedimento preso di Ghiranfretta oggi dalla regione, ma biasimiamo aspramente il metodo di lavoro adottato dalla Giunta. Diffondere senza alcun preavviso una delibera del genere, che poco più di 24 ore dalla Pasqua denota una mancanza assoluta di rispetto riguardo nei confronti di imprese e clienti, tuona Franco Marinoni. Supermercati e piccoli negozi di alimentari, macellerie, gastronomie e rosticcerie, che con i ristoranti impossibilitati a lavorare normalmente erano sotto pressione per le vendite, apprendono ora che non potranno lavorare né a Pasqua né a Pasquetta, ma è consentita loro la consegna, così se non vogliono perdere le prenotazioni ricevute, in pochissime ore devono mettere in piedi un servizio di consegna al domicilio dei clienti, quelli che sarebbero venuti in negozio a ritirare quanto ordinato. Ci pare, conclude Marinoni, una cosa inaudita in un momento del genere.